Ciao, io sono il Poro Michele e sono un grande appassionato di videogiochi. In realtà è da una vita che gioco e colleziono, ma è solo da quando è uscita la Nintendo Switch che ho deciso di condividere la mia passione qui sul canale. Se deciderai di seguirmi troverai parecchie cose, approfondimenti sui videogiochi e la loro storia, unboxing e collezionismo, ma soprattutto guide strategiche su quello che secondo me è il gioco per eccellenza di questa generazione videoludica, Super Smash Bros Ultimate. L'appuntamento fisso qui su YouTube quindi è il martedì e il venerdì alle 18, ma ti consiglio comunque di attivare la campanella delle notifiche perché spesso se trovo una notizia che cattura la mia attenzione decido di metterla al volo in video per commentarla insieme a voi iscritti al mio canale. Se invece sei più un tipo da gameplay e video in live, beh allora l'appuntamento è il mercoledì alle 21 per giocare tutti quanti insieme a Smash. Ti lascio qui sotto in descrizione il link al mio profilo per le live e anche al mio server Discord. Questo non solo è utilissimo per avere un contatto diretto con la community, ma anche per avere numerose anticipazioni sui miei prossimi video e anche qualche dritta sui miei numerosi fuori programma. Quindi se sei un appassionato di Nintendo e dei videogiochi in generale ti assicuro che su questo canale troverai pane per i tuoi denti. Secondo me è il caso di iscriversi. Non credi? Io sono il Poro Michele, ci vediamo presto, ciao!